Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Justin Raga, scrivete nei commenti un nuovo supporto a creator perché il supporto a creator Justin l'hanno tolto, peccato Vabbè raga, facciamo della creativa e ci vediamo Allora, il lavoro che consiste di oggi giocare con le partitelle, fare tornei, cose così del genere quindi spero che vi divertite in questo video che nessuno me li guarda però ci provo a farli e dai, ci tengo il mio canale Allora, allora, allora Raga, stiamo qua nell'isola della reata qua andiamo a questa mappa che consiste, aspetta, guardiamo Beh, consiste in... Aspetta, aspetta che muto tutti questi qua Allora Allora, questa mappa consiste a costruire e faiettare come sempre, fatta in partita, no? Guardate quanto sono migliorato nei dettagli Non lo so perché un bel po' sono migliorato non lo so perché un bel po' sono migliorato raga raga sta facendo caos qua raga caos tosto raga questa qua è la seconda guerra mondiale è la terza a 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